...particolare, a te, a Carmen, a me, a Antonio e a Frecce. com a estrella e se parede con Salmo especulando Vado, vado. Vado, vado. Vado, vado. Vado, vado. non è così oh, mi racca, mi racca dai, va a fare come stai non è così 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.